L'11 giugno San Ferdinando ha una grande opportunità, quella di cambiare pagina, quella di dare un volto nuovo alla politica. Costruiamo insieme una squadra di giovani che hanno l'esperienza e di giovani alla prima esperienza. Quindi abbiamo coniugato esperienza e persone che si affacciano per la prima volta in politica. È una grande opportunità per San Ferdinando, io mi sento solo di dire questo, ce l'hanno chiesto e noi ci siamo messi in gioco. Adesso abbiamo bisogno del loro aiuto, dell'aiuto di tutti i cittadini di San Ferdinando per portare avanti un progetto ambizioso e realizzabile. Quindi l'11 giugno io esorto tutti ad andare a votare e a votare Salvatore Puttilli e la lista Costruiamo Insieme.